Dunque, questo documentario che abbiamo appena visto attraverso la prospettiva del medico mostra molto efficacemente il funzionamento nella pratica quotidiana della legge olandese sull'eutanasia e allo stesso tempo racconta in modo anche estremamente delicato le vicende umane che sono coinvolte nell'attuazione di questa legge. Io volevo iniziare col chiedere a Jules Bonverberg perché ha sentito l'esigenza di girare un documentario sull'eutanasia e quali aspetti le premeva che emergessero di più e perché ha scelto di filmare questo documentario attraverso la prospettiva del medico. Ok, in 1995 mio padre-in-lò era molto illo, ha avuto cancero e questo era molto male con lui e poi ha deciso di chiedere il docente di comitare o applicare l'euthanasia e questo è il docente di comitare o pubblico, quindi non è stata legali mai no, ma il docente ha deciso di fare l'accento, e noi siamo così ocupati con noi, con la sua famiglia e il nostro Non abbiamo pensato alle emozioni del medico nel praticare l'eutanasia e la sera dopo la morte di mio padre abbiamo salutato il medico, lui è andato a casa e abbiamo pensato wow questo deve essere molto dura anche per lui. Anche il padre di mio marito è morto ma per i medici deve essere dura anche perché loro ovviamente hanno emozioni e quello è stato il momento in cui ho deciso di fare un cortometraggio su questo argomento. Nove anni dopo ho chiesto al mio medico se è veramente difficile non mettere in gioco le proprie emozioni. Il mio medico ha pianto perché era così contento che finalmente qualcuno gli avesse chiesto di parlare delle sue emozioni. Tutti i medici erano molto contenti che qualcuno finalmente dedicasse loro l'attenzione a proposito delle loro emozioni e questo è stato l'inizio del film. Nei Paesi Bassi non esiste per il paziente un diritto all'eutanasia, non c'è un diritto all'eutanasia riconosciuto formalmente, così come naturalmente non c'è un obbligo da parte del medico a soddisfare la richiesta di eutanasia del paziente. Come sentiamo anche all'inizio del documentario, ci sono 8500 richieste all'anno e di queste soltanto un terzo viene accolto. Possiamo dire che anche nei Paesi Bassi, il primo Paese che ha legalizzato l'eutanasia, questo argomento rimane comunque un argomento molto delicato, rimane perciattivarsi un tabù di cui è molto difficile parlare apertamente. Voglio chiederti se è stato difficile trovare persone disposte a farsi dipendere in queste circostanze, così private. Sì, è stato molto difficile, ho intervistato circa 60 e solo 10 hanno dato l'assenso a partecipare al film. E' difficile perché non si sa quando un dottore deve affrontare il problema dell'eutanasia. Prima di iniziare a girare, 10 medici erano pronti a chiedere a me se ero disponibile di parlare di eutanasia. C'è un'organizzazione che deve esaminare i dottori che parlano di eutanasia? Questo gruppo di medici ha un interesse particolare nei confronti dell'eutanasia e quindi non hanno paura di figurare in un cortometraggio. Questo è stato il primo passo, avevo i medici a questo punto ma non sapevo se questi medici avrebbero avuto i pazienti giusti. E nel caso avessero avuto questi pazienti che avessero fatto richieste di eutanasia non so se sarebbero stati disposti a figurare in un filmato. Io non volevo filmare il lato in quanto tale, il momento dell'eutanasia e questo ha semplificato le cose sia ai medici che ai pazienti e ha permesso loro di comparire nel filmato. Ho trasmesso all'inizio di quest'anno, a gennaio 2010, sulla televisione pubblica olandese e volevo chiedere a Jules quali sono state le reazioni alla trasmissione di questo documentario sulla televisione pubblica e in generale quali reazioni ha ricevuto nelle occasioni in cui ha presentato questo film. Le reazioni direi sono state positive, avevo un po' timore della mancanza di reazioni positive al documentario. Io non volevo fare una dichiarazione sull'eutanasia, volevo soltanto mostrare che questo argomento si accompagna a emozioni. E' per questo che le reazioni direi sono state positive. Quando è stato trasmesso in televisione ho ricevuto moltissime lettere da telespettatori che mi hanno rivelato dei casi di eutanasia che avevano avuto nella cerchia di familiari ed amici. Ma come dicevole le reazioni sono state positive. La scorsa settimana è comparso un articolo sulla stampa olandese che riguardava un medico. Un medico che scriveva appunto della sua soddisfazione rispetto alla trasmissione di questo filmato. Anche perché avrebbe potuto mostrarlo ai pazienti e ai familiari perché dimostra che ci sono delle emozioni in gioco anche per chi pratica l'eutanasia. E questo filmato sta cercando le parole in inglese la nostra regista. Ecco dice ci vuole un po' di tempo prima che il paziente manifesti la propria richiesta pensando che magari subito questa richiesta possa essere accolta e l'eutanasia praticata. Messa ovvia ma necessaria che un film del genere chiaramente avrebbe potuto esclusivamente essere girato in un paese in cui l'eutanasia è legale. Anche sappiamo, come ha detto anche la professoressa Moratti in precedenza, il fatto che in Italia l'eutanasia sia illegale non significa che negli ospedali italiani l'eutanasia non esista. La legge olandese è frutto di una volontà molto pragmatica anche rispetto agli altri paesi che successivamente hanno deciso di legalizzare l'eutanasia, di regolamentare una pratica che effettivamente era già emersa abbondantemente. Già si sapeva che c'erano dati qualitativi e quantitativi sulla pratica dell'eutanasia negli ospedali olandesi. Ecco, quello che volevo chiederti, qual è stata la tua impressione avendo trovato una prospettiva diretta ma per certi vertici esterna perché è quella di qualcuno che vuole raccontare una storia? Secondo te questa legge riesce nel suo intento? Hai trovato dei conflitti tra le esigenze dei medici, i desideri dei pazienti da una parte e i comportamenti che vengono loro prescritti dalla legge? Io penso che sia una legge efficace perché è trasparente, se ne può parlare, se ne può discutere. Sì, io direi che è una legge buona e sono orgogliosa che sia stata adottata nel mio paese. Quando ho deciso di fare questo documentario io non ero sicura se essere favorevole all'eutanasia, poi un medico mi ha fatto notare che non dovevo necessariamente essere a favore, bastava che non fossi contro l'eutanasia. E mentre giravo il documentario mi sono resa conto di essere a favore di questa pratica. Miriam, la paziente oncologica, una donna bellissima fino alla fine devo dire, Miriam aveva deciso a favore dell'eutanasia per poter controllare la propria morte. Miriam probabilmente aveva paura di non riuscire a salutare i suoi amici e i suoi familiari. E il giorno dell'eutanasia era un po' come una festa di matrimonio, era circondata da tutti gli amici, da tutti i familiari. Non ha voluto aspettare il momento in cui non avrebbe più potuto salutarli, ha voluto controllare la sua morte. Io credo che sia stato splendido, straordinario che le sia stata data questa possibilità. Perché altrimenti io penso che sarebbe mancata, magari qualche giorno dopo, in un modo spaventoso. Dunque una domanda che vorrei estendere poi anche agli altri oratori. Parte delle richieste di eutanasia nei Paesi Bassi non vengono soddisfatte per il semplice motivo che il paziente decede prima che si presenti la necessità di procedere all'eutanasia. Quindi volevo chiederti, secondo te la consapevolezza da parte di un paziente di avere accanto un dottore eventualmente disposto a praticare l'eutanasia o a prestare assistenza al suicidio. Costituisce una forma di rassicurazione per il paziente che in questo modo può vivere la sua condizione con meno angoscia? Sono meno angosciati, meno ansiosi questi pazienti, però non sono tutti i medici che sono pronti a praticare l'eutanasia. A volte ci sono dei professionisti che non si proclamano apertamente né a favore né a contro e questo crea un senso di sicurezza nei pazienti. Se un medico non manifesta chiaramente il suo atteggiamento a favore o contro, i medici, ad esempio il caso di Miriam, la paziente oncologica, è un medico che ha moltissimi pazienti di altri medici che non hanno detto chiaramente no all'eutanasia. Poi però è necessario che si crei un legame con i pazienti e spesso non c'è tempo se i pazienti devono cambiare medico. Quindi c'è questo momento di apertura nei confronti del medico, ma si sa che non sono tutti i medici disposti a praticare l'eutanasia. Quindi la domanda va posta chiaramente al medico. Bisogna sapere che non sono tutti i medici pronti a farlo. Prima di aprire il dibattito anche agli altri oratori per sapere le loro impressioni su questo film. Dunque la legge olandese sull'eutanasia si basa sul concetto di alleanza terapeutica. Cioè ci deve essere un rapporto di stretta fiducia, di lungo corso, tra il medico e il paziente. Il medico deve conoscere molto bene la storia del paziente e questo è un prerequisito perché poi si possa procedere all'eutanasia. Anche per questo motivo è molto difficile che un medico accetti di praticare l'eutanasia su un paziente che si trasferisce nei Paesi Bassi appositamente per morire. Sappiamo che formalmente non esiste un diritto all'eutanasia. Nei Paesi Bassi. Ma volevo chiederti che risposta ti sei data alla domanda che ti poni all'inizio del film. Nella pratica questo diritto esiste nei Paesi Bassi o è un favore da parte del medico? Io credo che sia un favore. Io credo che sia un favore. La maggior parte dei pazienti credono che sia un diritto, ma la legge esiste per semplificare l'operato dei medici. La legge non costituisce, non crea un diritto del paziente, è sempre un favore da parte del medico. Non è possibile esigere dal medico l'eutanasia. Dal momento che è una prassi legale non si può pretenderla comunque. La legge esiste, è stata emanata nell'interesse del medico. Il medico ha bisogno di tempo. Il medico deve decidere se poter concedere questo favore al paziente. Almeno questa è la mia posizione. Il medico ha bisogno di tempo.